e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video da quello che potete vedere ho portato l'ola al grado 25 ragazzi 39.543 coppe si avvicinano le 40.000 un anno fa cioè o meglio meno di un anno fa a giugno ho equaiato le 30.000 ragazzi adesso per fare le 40.000 ci sono ci sono e quindi niente questo questo rank 25 l'ho fatto un po di tempo fa quindi non ce l'ho nelle mischie e avevo registrato in precedenza quindi ora unirò i video e quindi niente ho fatto un altro rank 25 che non è su questo account ma è su un altro account e l'ho fatto dal tablet e quindi niente ragazzi se lasciate un like a questo video iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e per questo video è tutto vi lascio alla clip ciao grazie 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 grazie